Si narra che un mese fa, sulla terra, un essere ancora più maligno del king delle bestemmie stesso apparve. Questo essere, che si fa chiamare Lugozzi, dotato del potere di far bestemmiare anche Papa Francesco se solo volesse, è apparso, dopo esser stato cercato per mari e monti, davanti agli occhi del nostro eroe. Ah regà, ve giuro di sicuro non su Gesù Cristo, ma se sto video arriva a 35.000 mi piace, non so se in un giorno, due giorni, una settimana, riporto sta bestia di satana di Lugozzi su sto canale. Distruggete da ora il like, appizzatevi le cuffiette e divertitevi. Eccoci qui ragazzi, come potete vedere siamo alla schermata di Mv2, sto per invitare il ragazzo che oggi ci farà impazzire... È Lugozzi, è lui! Ciao Lugozzi, come va? Benissimo. Come pensi che andrà a finire? Che mi ererai male. No, no, levati l'Ataclan, subito. Non voglio avere a che fare con i Cristi oggi. Come potete vedere, ha il microfono. Per la partita noi ce lo leveremo, verrebbe strano il gameplay senza volume, è un po' un casino farlo. Come abbiamo deciso, al meglio di tre, la prima partita sarà con il cecchino, si arriva a 20, senza radar, la seconda su Rust con le armi, senza radar come sempre, e poi se ci sarà lo spareggio che sarà in un ched veterano, sarà tipo una cosa folle, veramente. Lugozzi, parole prima dell'inizio? Che vinco il peggiore, quindi che vinco io. Io c'ho una paura, raga, vi giuro su Dio. Possiamo usare streak, possiamo usare gli equipaggiamenti, sempre, exclamour, non so cosa si si è messo lui, ma è il Lugozzi, quindi si sarà messa la Claymore, sicuramente. Mi sto giocando la reputazione in tutto e per tutto. Io c'ho paura perché su Terminal... Eh, non c'è sta salute minima, ottimo. Su Terminal io non sono forte, per niente. Guardate cosa abbiamo creato. Bro, fagli il culo! Forza Lugozzi, vince Lugozzi! Abbiamo creato, non lo so, una tendenza mondiale. L'FBI, gli Anonymous stanno dietro a Lugozzi oramai. Eh, 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 io... Sul serio? Fermo in un angolo! L'ho visto. Eh, non penso di farmi prendere da attacchi di panico, però nel caso si arrivasse a uno spareggio io non so cosa potrei fare. Qui potevo fare quick. Però chi sei io? Eccolo. Hitmarker. Sì, Lugozzi, c'ha lo stesso identico col sign del King delle Bestemmie 6. Perché, perché ti vuoi far odiare? Eh, posso usare pure il Wav. Ora sappiamo dov'è. Sì, sì, Lugozzi! Le prendi le sculacciate! Ultima speranza! Oh mio Dio! Che cos'è? No, no, veramente, cioè, sul serio. Lo sto arando, 9-2. Se perdo con Lugozzi con il cechino, uccidetemi. Lugozzi, Lugozzi, Lugozzi. Guardate dove sta. No, 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 ok. E' qui Code 4 style coinoscope Niente non va niente E' intoccabile è intoccabile Ancora basta No no Hitmarker sapete I Lugozzi si combattono con i Lugozzi Dove sei Lugozzi dove sei Eccolo No Mi faccio solo hitmarker comunque è preoccupante Questa cosa What what è spawnato No ci ha messo l'infiltra Ci ha messo l'infiltra Vi ho detto all'inizio video non metterti l'infiltra Sta l'hamburger No 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 doppio hitmarker no I NED glitch Oh mio dio Lugozzi sul serio Dai mi faccio hitmarker in qualunque modo Uuuu Ruucia Guarda i NED glitch Guarda quanto sta i NED glitch Vabbè dai c'è non lo so te regalo la colla U stick guarda Sonic marker Dietro Hai visto l'infiltra avete visto l'infiltra Oh mio dio Arigà Si muove come ritardato Guarda come salta C'ha pure mira stabile Voglio dire una zacca Agniata Non lo vedo E' scomparso Lugozzi Oh no no Coltellino Che fail avevo fatto Eccolo Si Quanto è quant'è ne mancano tre Ne mancano Non c'ho le munizioni C'ho una munizione Se faccio hitmarker Se faccio hitmarker Eh vabbè gliela devo dare Dov'è Hitmarker Guarda come si è dato Ma che è un topo Guardalo Cosa fa Ha finito le munizioni Lugozzi Ho fatto un'infamata Bruttissima Se gli faccio il trick Cosa mai può succedere Comincio a ballare nudo Per caso Nooo Come sei E vai 1 a 0 Vabbè però questa era abbastanza Poco combattuta Effettivamente col cecchino Se perdevo con Lugozzi Come ho già detto Mi sarei andato a far impanare Il buco del culo Da qualcuno Allora sul rust Dovrebbe essere relativamente facile Guarda come si muove Scattante No regà Che c'ha il C4 Veramente Sul serio Devo giocare da camper Benissimo No regà Io con folle con le armi Non ci so giocare Ottimo Qui devo tryhardare malissimo Perché lui con le armi è forte Io con le armi Negli uno contro uno Non ci ho mai vinto Con nessuno Con Velox Ci ho perso Con Dread Mi sembra ci ho perso Perdo con tutti Con le armi Eee Ma se non conosci Sti spottini Lugo Ah Lugazzino Mio bello Come 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 No no qui vince lui Qui vince lui Head glitch Solo head glitch Sono anche host Dovrei stare zitto E basta No la macchina No Lugo La macchina No Lugo Si No se vai sulla macchina Altero Si Vabbè Che qua Che qua C'aveva di nuovo Ultima speranza Pure sulla classe Con le armi Sei imbarazzante Per Dio Vieni qui baby Oh si Vieni qui Si è arreso 9-5 Non devo abbassare la guardia Cos'è No la classe coi puffi La classe coi puffi No vabbè Una persona ignobile No 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 Devo ricaricare Sono morto Non c'ho le classi Non ho armi No raga Vi giuro su dio Non so se c'ha C'ha uomo esercito Bestello A uomo esercito Camperato in head glitch Con i puffi Oh mio dio C'è finita Come faccio ad avvicinarmi Eccolo Vieni qui Godo C'ho anche il puffo Perché mi è salito Sulla macchina Oh mio dio C4 Sul serio Dietro la macchina Si è messo Io vi giuro su dio Spacco la scrivania Muori Ma me devo veramente concentrare Come se stessi a giocare La finale Va benissimo Dammi il tuo acr Dammi i tuoi puffi Via del puffo Si 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 No No Si è messo l'ump di nuovo Quindi vuole essere più Aggressivo Dov'è Scomparso Ce l'hai un Lugazzi Per me Come at me bro No no Qui la vince lui Sì No Non è a modo di giocare Sta qua sotto No eccolo Non lo vedo Sta dietro di me Sta dietro di me No 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 Sto sempre a fare Y Y Y Y Y 18-17 Ci siamo We got it We got it We got it Devo gratta al naso Sto sudando Sto sudando Cioè ci potremmo cuocere la pasta Con il sudore Cioè ci potremmo cuocere la pasta con il sudore che c'ha sotto le ascelle No 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 Sono pure spawnato male Allora No 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 Era il controller nuovo Era il controller di una settimana nuovo Dove sono le batterie No guarda Ha tirato la coltellata dopo Ha tirato la coltellata dopo No vabbè vabbè Io non ho parole Cioè veramente Ho pure perso le batterie Lode a Lugozzi Con le armi è più forte Il problema arriva ora Faremo lo spareggio Sarà cerca e distruggi Quindi semplicemente una morte Finisce il round Vince chi uccide l'altro A veterano Quindi non c'è completamente nulla Sulla mappa dove Lugozzi Si è imposto per la prima volta In un king delle bestemmie Favela E per combattere il male assoluto Ci vuole l'abbigliamento adatto Perché questa maglietta? Perché se perdo questa partita Se perdo questo video Io vado in galera Quindi la maglietta ci sta bene Il cappello Zecimbrante Il primo cappello del primo commentary Di Stallions TV Guardate voi com'è lo schermo Non c'è nulla di nulla Solo gli obiettivi E basta Salute minima ovviamente Pam Stava veramente piazzando Vi rendete conto? Guardatelo Godo 1 a 0 Si arriva a 8 Quindi sarà lunga La cosa Potrebbe stare già su A di nuovo Non lo so Non mi fido Secondo me cambia Non sta su B Benissimo Lugozzi Come vuoi giocare Lugozzi? Come Ha deciso di giocare così Va bene Lugozzi Vuole MP silenziato Ma io mi devo cambiare classe Guardate che classe mi so fatto Fall Claymore Ninja Perfetta Infatti Dal prossimo round si gioca così Claymore Camperato in una casa Ora abbiamo la bomba noi Quindi ora ci gestiamo bene le cose Considerando che lui penserà Che noi vogliamo andare su A Come ha fatto lui Noi andiamo su B Col fall stiamo messi bene Perché devo solo essere un po' più preciso Con un colpo lo one shot In veterano Noi piazziamo Mi sento proprio lo schifo Potrebbe spunta pure dall'alto Regà qua non finisce bene Io ve lo dico sinceramente Stiamo 3-1 per lui Come faccio a parlare però A concentrarmi per bene No c'è il Wab lui Non so se l'ha tirato in cielo Non lo vedo Come l'ho fatto? L'ho sparato prima Sono host Guarda che se non gli arrivano neanche i colpi in kill Cammin cazzo L'ho lisciato L'ho lisciato Voglio vedere il replay di questa cosa E voglio vedere se l'ho lisciato Dovete sapere che io non sono player di queste cose Sono scarsissimo Faccio schifo Però no No Non può finire così Guarda dove stava Guarda Guarda Fermo lì alla finestra Oh mio dio Che cos'è quella tacla LFPV A cura matata ragazzi Dobbiamo essere aggressivi Qua siamo messi malissimo Ha failato lui eh Se no questa mi aveva stuccato malissimo Ok 4 a 3 4 a 3 Il comeback Il comeback Il comeback Sembrava una partita della Roma Ma forse l'abbiamo ripresa un po' Dove stava? No colpì 90 Guarda dove stava Dov'è? Dove si muove? Mi sono messo in una casa Che stanno due entrate Una peggio dell'altra Ha piazzato E' l'ultimo round regà E' andata come è andata no? 6 anni a giocare a Modern Warfare 2 Pippa scatenata con le armi sono Più che altro qualcuno può notare Che ci sono le bombe in difesa Praticamente siamo arrivati 7 a 3 Mi è finita la memoria della reflex Quindi abbiamo fatto la lobby di nuovo E siamo ritornati a 7 a 3 Ora dobbiamo semplicemente giocare E basta Regà non lo trovo è scomparso C'ha 20 secondi sta per piazza A O piazza su B o piazza su A Dobbiamo sperare che piazza su B Eccolo Eccolo No Eccolo Piazza su B o 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 piazza su obligato a